Buongiorno a tutti, siamo in collegamento con Ivana Barbacci, segretaria generale di CISL Scuola. In queste ultime ore, in questi ultimi giorni, il Ministro Valditara ha nuovamente ricordato che mai come in questa legislatura agli insegnanti sono stati dati importanti riconoscimenti economici. Sta di fatto però che siamo arrivati già alla scadenza della nuova tornata contrattuale, quella del 22-24 e al momento attuale però, al di là delle buone parole, delle buone intenzioni del Ministro e anche degli altri Ministri, quindi soprattutto del Ministro dell'Economia, però non sappiamo ancora nulla. Vi risulta che l'atto di indirizzo sia ormai in dirittura d'arrivo? Abbiamo capito che per le funzioni centrali si dovrebbe partire a breve. Per la scuola come siamo messi? Allora, noi attendiamo con molta preoccupazione da un lato e anche in necessità di accelerare i tempi attendiamo l'atto di indirizzo del Ministro Valditara. Come è noto, il nostro comparto ingloba in sé anche l'Università e la ricerca, quindi per avviare la trattativa per il comparto di 1.250.000 lavoratori serve anche l'atto di indirizzo della Ministra Bernini, Ministero dell'Università e della Ricerca. Quindi non basta l'atto di indirizzo del Ministro Valditara che abbiamo contezza, è in fase di definizione, quindi contiamo che nelle prossime ore, prossime settimane sia messo nelle condizioni di essere inviato alla funzione pubblica, perché poi è il Ministro della Funzione pubblica che fa sintesi e dà disposizione all'Aran per l'avvio della trattativa. Noi abbiamo proprio necessità di riattivare la negoziazione per poter chiudere auspicabilmente la trattativa, la contrattazione 22-24 entro l'anno 2024. Sarebbe anche solo questo un gran risultato perché riusciamo a chiudere in contratto dentro la vigenza del triennio, cosa che non siamo stati in grado di fare le ultime volte, l'abbiamo sempre conclusa a scadenza della vigenza. Poi c'è il tema più importante di tutti, è quello di riuscire a mettere nella retribuzione tabellare fissa aumenti contrattuali significativi rispondenti alle responsabilità annesse e connesse al lavoro di scuola, nello stesso tempo anche rispondenti al recupero del potere d'acquisto degli stipendi in ordine anche all'inflazione. La somma dei due contratti, quello appena sottoscritto 2019-2021 e quello prossimo 2022-2024 e io credo che il Ministro Valditara si riferisca a questo, cioè alla somma dei due potenziali rinnovi contrattuali portano con sé il dovuto. Niente di straordinario e eccezionale. Mi sento di dire anche il minimo sindacale, serve di più, serve uno sforzo aggiuntivo che non può essere il solo investimento in legge di bilancio che va assegnato a tutta la pubblica amministrazione, ma serve un investimento ad hoc anche per l'istruzione, destinato esclusivamente all'istruzione, per tutta una serie di interventi di particolare complessità, ne dico uno su tutti, la gestione del PNRR. Le scuole hanno lavorato per la progettualità del PNRR senza mettere nelle tasche di chi ci ha lavorato un euro, perché quelle non sono risorse che sono retribuibili attraverso i compensi, né accessori né tabellari. E allora ci dobbiamo interrogare come riusciamo a mantenere un sistema così complesso senza dare una sterzata davvero significativa in termini di investimento, non sono costi, sono investimenti che ripagheranno anche il sistema scolastico in termini di qualità, la scuola se lo merita. Senti, a proposito di compensi accessori, probabilmente un obiettivo importante del prossimo contratto forse è proprio questo, cioè di avere una rivalutazione anche consistente dei compensi accessori che negli ultimi anni con gli ultimi due contratti sono di fatto diminuiti, perché in un caso sono proprio diminuiti anche da un punto di vista di valore assoluto e poi comunque anche quando sono rimasti identici chiaramente sono stati erosi dall'inflazione, quindi forse questo è un obiettivo importante o no? Sì, è molto importante che va diciamo di pari passo con quelli che ho già espresso, abbiamo necessità di implementare il fondo delle istituzioni scolastiche da cui si attinge per la contrattazione integrativa i compensi accessori. È necessario perché le attività aggiuntive oltre quelle obbligatorie sono molto aumentate, sono molto complesse e in realtà il fondo è rimasto stabile se non addirittura in alcuni casi ha avuto qualche segno meno. Allora lì serve un intervento specifico, ad esempio, per caratterizzare un impegno di spesa da rivolgere al personale in formazione. Se è vero che vogliamo puntare sulla qualità del personale chiedendo al personale di formarsi, dobbiamo anche sapere e dobbiamo rispondere pagandolo il personale che si forma, perché sono attività aggiuntive, carichi aggiuntivi che si sommano a quelli per i quali si viene pagati dallo stipendio. Un tema importante però è anche quello di provare a lavorare per la defiscalizzazione dei compensi accessori. Sarebbe un risultato, un obiettivo da centrare molto importante perché renderebbe anche molto più appetibile accedere alla retribuzione accessoria in termini anche di incarichi e di impegni che sono messi a disposizione della comunità professionale dell'istituzione scolastica tutta. Senti segretaria, potrebbe essere che questa volta ci sia anche l'occasione per iniziare, non dico a definire, ma almeno per incominciare a ragionare, per incominciare a lavorare sul tema dello sviluppo di carriera oppure anche questa volta non se ne parla? Io credo che i tempi siano maturi e possiamo approfittare di una contingenza che è quella della gestione in termini contrattuali del DL36, il PNRR scuola aprile 2022, quello che introduce il docente incentivato, tanto per essere chiari. Ecco, quello fu un intervento fatto, rabberciato e uso le parole scegliendole, proprio per dare una risposta all'Europa che spingeva sulla formazione, noi vogliamo che invece sia davvero un intervento proattivo in termini di avvio di un processo che caratterizzi e risponda alla valorizzazione delle responsabilità che già ci sono nella scuola e che vengono ad esempio retribuite attraverso il compenso accessorio del FIS, che non è sufficiente. Quindi proviamo a, come dire, governare la dimensione del DL36 dentro il contratto 22-24 per riorientare quelle risorse, cominciando ad avviare un processo di caratterizzazione delle responsabilità in termini di figure a sostegno e supporto dell'offerta formativa. Questa è un'occasione che non possiamo perdere e potrebbe essere l'inizio di un processo che poi dovremo proseguire con il prossimo contratto. Senti, l'ultima questione, sempre di natura economica, posto che gli stipendi della scuola, in particolare poi quelli degli insegnanti, tenuto conto del livello di responsabilità che loro hanno, sono bassi dovunque, sono bassi a Udine come sono bassi a Trapani. Però c'è il fatto che il costo della vita in alcune aree del territorio nazionale è decisamente molto più alto rispetto ad altri territori. Questo lo vediamo, ci sono anche conseguenze importanti. Le cattedre al nord sono sempre meno appetite e sono sempre meno ricercate. Ecco, ora senza andare a finire nell'idea di avere stipendi più alti al nord e meno alti al sud che richiamerebbero le ben note gabbie salariali sulle quali credo tutti siano contrari. Però si può pensare almeno a delle forme di welfare per aiutare chi deve lavorare fuori sede, magari deve anche spendere soldi per viaggiare, per spostarsi. Ecco, questo si può trovare una soluzione? Fermo restando, così come è stato sottolineato, che la retribuzione deve rimanere uguale in tutte le latitudini del Paese, perché se faccio l'insegnante devo avere una retribuzione, diciamo, tabellare uguale in qualunque area e regione io insegni. Fermo restando questo. È chiaro che forse dobbiamo avviare un ragionamento, i tempi ci sono, le condizioni ci sono, perché diversamente ne stiamo subendo i danni, per poter immaginare un welfare territoriale, che sia anche abbastanza corrispondente alle caratterizzazioni del territorio. Per quanto riguarda le regioni del nord ci sono delle esigenze, che possono essere quelle degli affitti, che ci possono essere, per le regioni del sud, ad esempio, ci può essere una caratterizzazione di welfare relativa alla mobilità. Chi vuole tornare da una regione del centro del nord verso la Sicilia, in molti casi deve spendere uno stipendio per tornare in Sicilia o in Sardegna, perché i prezzi degli aerei e dei mezzi di comunicazione sono altissimi. Questo è un tema urgente che non è legato ai salari, alle retribuzioni, ma è welfare, sostegno, supporto, anche a fare in modo che il personale possa poter garantire, ad esempio, una continuità su alcuni territori. E questo potrebbe, dovrebbe riguardare tutto il personale. Faccio un esempio, le stesse caratteristiche riguardano gli infermieri. Gli infermieri si trovano nelle stesse condizioni degli insegnanti. Al nord Italia non riescono a poter instaurare un rapporto continuativo di lavoro perché il loro stipendio è troppo basso rispetto al caro vita di alcune regioni. Allora potremmo rispondere agli insegnanti come ai lavoratori dell'Inps, come ai lavoratori della sanità, come ai lavoratori del pubblico impiego che sono costretti a spostarsi perché i posti sono in alcuni luoghi e non in altri, con un welfare territoriale coordinato organico e non a spot o non diciamo caratterizzato da sponsorizzazioni temporali. A noi serve un sistema strutturale. Senti Ivana, concretamente voi vi augurate, sperate, pensate che si possa aprire il tavolo delle trattative già a settembre? Io direi che confido invece piuttosto che si possa aprire già anche in estate. Noi siamo pronti, nessun giorno può essere perso. Se nelle prossime settimane l'atto di indirizzo dovesse arrivare alla funzione pubblica e avere tutti i crismi per poter avviare una trattativa, siamo disponibili da subito a iniziare il confronto e poterlo, se speriamo, speriamo tutto vada per il verso giusto, chiuderlo entro la fine dell'anno, al massimo i primi mesi del nuovo anno. Insomma concludiamo con una battuta, pur di chiudere il contratto entro i tempi dovuti siete disposti anche a fare un incontro all'Aran il giorno di ferragosto? Questo lavoro impone anche questo tipo di impegni, quindi li mettiamo in conto, non c'è problema. Va bene, allora mille auguri per la trattativa, mille auguri per tutto e ci risentiamo e ci rivediamo quando ci saranno notizie più concrete. Grazie, grazie. Grazie a te.